... Mercoledì 23 dicembre 2020, buongiorno, ben ritrovati cari telespettatori di Fanotigù, sul canale 17 abbiamo la rassegna stampa, occhi giornali, tra poco vedremo subito le notizie che abbiamo selezionato per voi questa mattina, prima andiamo a vedere però il santo e poi il tempo con le previsioni per la giornata di oggi e per i prossimi giorni, che siamo a due giorni dal Natale, quindi, allora San Giovanni da Chetti, questo è il santo di oggi, il sole sorgerà le 7.44, tramonterà le 16.36, adesso andiamo a vedere subito il tempo. Si parla di burrasca tra Natale e Santo Stefano su trebimeteo.it, ma il tempo neve è quota basse, freddo, 27-29, maltempo invernale, neve anche in pianura, dunque aspettiamo l'arrivo di questa aria artica, vediamo gli effetti anche sulla nostra regione con il sito della Protezione Civile delle Marche, che per oggi, mercoledì, prevede un cielo parzialmente nuvoloso con addensamenti bassi a ridosso dei settori interni e transito di stratificazioni alte verso la fascia costiera. Avremo nella giornata di domani 24, vigilia di Natale, un peggioramento soprattutto nelle aree interne e nel corso del pomeriggio e sera potranno estendersi anche verso la costa. Il giorno di Natale si presenta così nelle Marche, con la provincia di Peso Urbino, sia la costa che l'entroterra interessata dalle precipitazioni, saranno anche deboli locali rovesci, in intensificazione e diffusione nel corso del pomeriggio e della sera a partire dai settori settentrionali, poi via via giù verso la parte meridionale. Insomma, la giornata di sabato sarà caratterizzata da condizioni di maltempo, con precipitazioni diffuse ed intense, in particolare durante la mattinata e ci sono anche delle nevicate. Allora, andiamo a leggere su Videogiornali. La variante inglese tra noi, questa è la notizia diciamo del giorno, purtroppo non ci facciamo mancare niente e dunque nelle Marche è arrivata la variante inglese del Covid. Primo caso a Loreto, scoperto dalla virologa di Torrette. Menzo dice la trasmittibilità è alta, rebus per il ritorno a scuola, preside i sindacati bocciano la proposta di ingressi scaglionati. A centro pagina la cronaca con l'uccisione sulla statale adriatica 16, sulle silicate di un giovane, un giovane che è stato travolto, ucciso da un'auto. Lui stava andando a piedi, vedremo, probabilmente non era lucido o non si sa bene quale fossero le sue intenzioni. Insomma, non è stato un incidente, non è stata probabilmente una casualità, ma bisognerà capire se dietro ci sia stata anche l'intenzione di farla finita. Comunque, di spalla, sempre dalla prima del Corriere, Confindustria nel caos, Papalini sì alla fusione, ma Ancona si fa indietro. Negozi in centro a Pesaro, la rinascita delle vie cadette, poi soccorsi gonfiati dopo sette anni assolti tutti gli imputati, la piscina chiude, i nuotatori devono migrare a Vallefoglia. Gli ultimi doni del Comune di Fano sotto l'albero della cultura, i big dei benefici, l'RT che gestisce la Rocca Malatestiana ha ricevuto 45 mila euro di contributi, studi vitruviani 25 e l'orchestra sinfonica Rossini 11 mila e 8. Poi c'è anche lo sport, sempre di taglio basso, magnifico, carica la VL e Massenat oggi si opera. Il Carlino di Pesaro, a piedi nel buio, auto lo falcia. La fotonotizia muore a 32 anni sulle siligate. Vaccinarsi, un dovere per noi medici, è l'appello del Presidente dell'Ordine, dobbiamo dare un segnale forte e chiaro, è una questione di etica. E poi si parla dell'albero di Natale fatto con l'uncinetto di Mondolfo e i controlli della Prefettura che blindano i giorni delle feste. Papalini eletto, ma i dorici evocano ancora la scissione. Ad Ancona, virus inglese, famiglia contagiata, è il primo caso nelle Marche. Lo sport, Visefano passa tutto per il derby, Biancorossi in casa della Fermani, Granata ospitano il Materica, punti salvezza, basket, Baldasso sceglie tra VL e Fortitudo. Oggi la decisione del giocatore ex Roma, che sembra più vicino però a Bologna. E allora, la variante inglese, dicevamo, che spaventa le Marche. Primo caso a Loreto, dunque si è insinuata in una famiglia di Loreto composta da tre persone che venerdì scorso hanno deciso di sottoporsi ad un tampone molecolare perché alle prese con un forte raffreddore. A distanza di quattro giorni poi è arrivato il verdetto. Uno dei membri del nucleo familiare è risultato positivo al Covid. Non però quello che conosciamo, ma un suo figlio, la variante del GNS, quello che fa paura e che è stato isolato in Gran Bretagna, che poi ha provocato, come sappiamo, il blocco dei voli, oltre 200 miliardi bruciati dalle borse europee. Insomma, una variante che non fa stare tranquilli. Oltretutto, scrive il Corriere, oltre mani che il nuovo ceppo si sta diffondendo a velocità esponenziale, in Italia per ora sono solo due i casi registrati. Uno a Roma, lo abbiamo visto anche ieri, una 42enne che lavora a Londra, l'altro invece a Loreto, appunto, in provincia di Ancona. La variante è stata scoperta ieri nel laboratorio di virologia dell'ospedale regionale di Torrette di Ancona, diretto dal professor Stefano Menzo. Dunque, le variazioni, dice, però, sono poche e piccole, ma esistono e sembrano sufficienti per accelerare la trasmissione del virus, anche se non ha una particolare aggressività clinica. Questo è l'aspetto, diciamo, buono. E infatti il primo paziente marchigiano non presenta sintomi particolari, al di là del raffreddore, come abbiamo detto. Ora è in isolamento insieme ai due suoi familiari, ma non ha avuto bisogno di andare in ospedale. Ora, la variante non dovrebbe possedere particolari proprietà per sfuggire alla risposta del vaccino, ma le aziende che lo hanno prodotto stanno estendendo una sperimentazione rapida per verificarlo. Ora, leggendola così, magari in fretta e furia, anche leggere le parole così come le scrive Stefano Rispoli sul Corriere di questa mattina, dice, vabbè, stanno estendendo una sperimentazione rapida per verificarlo, dunque siamo tutti tranquilli, eccetera. Beh, insomma, tranquilli fino a un certo punto, perché comunque quando si parla di vaccini sappiamo bene quello che sono chiamati a fare, a svolgere il ruolo che hanno, ma quando parliamo di sperimentazione, la sperimentazione in questo caso rapida non la si fa sui topolini, immagino, ma si fa sulle persone. Quindi, insomma, non è sempre una buona cosa quello che sta succedendo. Tutta questa corsa, per quanto le aziende farmaceutiche ci stiano mettendo di tutto, di più, soldi, non solo per fare in fretta, ma, insomma, la fretta si sa che fa partorire anche gattini ciechi, quindi bisogna stare attenti, ma io mi fermo qui perché poi, ecco, non è il caso di andare oltre, ognuno di voi è grande vaccinato e quindi farà le sue valutazioni e i suoi ragionamenti sull'opportunità o meno di vaccinarsi. Intanto del virus si parla anche a pagina 2 del resto del Carlino, primo contagio nelle Marche, si tratta di una famiglia anconetana che però non è stata né in Gran Bretagna né all'estero nelle ultime settimane e dunque si sta cercando la causa. Calano intanto le presenze in terapia intensiva, nessuna vittima ad Ancona. Ospedali, la pressione si allenta, titolo del Corriere Adriatico, sono 4 le vittime del virus, scendono a 482 i ricoverati e a 61 i pazienti in terapia intensiva. Mentre, per quanto riguarda lo screening, oggi, ricordiamolo, è l'ultimo giorno, nel quinto giorno 10.880 test rapidi e 39 casi positivi. Oggi si chiude, tranne però ad Ancona, dove nel capoluogo sarà possibile effettuare questi test gratuiti ancora dal 27 al 29 di dicembre. A proposito del vaccino, il Presidente Paolo Maria Battistini, Presidente dell'Ordine dei Medici Pesaresi, invita e dice ai colleghi vaccinatevi, l'obbligo deve essere l'ultima spiaggia. Battistini sollecita la categoria e dice da parte nostra ci sarà una sorveglianza stretta e una questione professionale di etica. Intanto si apprende dal Carlino, da questo articolo di Simona Spagnoli, che i primi 17 professionisti della provincia, tutti operativi all'ospedale Marche Nord, quindi a Pesaro, si faranno inoculare il preparato della Pfizer domenica 27 dicembre, giorno destinato come il giorno del vaccino. in tutto il territorio europeo. Mentre la cronaca, la cronaca ci porta sulle silicate, sulle strade, dove c'è stato questo incidente mortale, qui siamo a pagina 3 del resto del Carlino, il titolo, a braccia alzate contro le auto, muore travolto, la tragica camminata di un 32enne lungo la statale nel buio, prima della siligata, investito, non ha avuto scampo. La fotografia di questo 32enne e il racconto di colui che lo ha investito per primo, che guidava la Panda, un 32enne, lui racconta, me lo sono visto davanti all'improvviso, con le braccia alzate, è disperato, anzi, 62enne, alla guida di questa Panda, un 62enne di Pesaro, ed è stata la prima auto che appunto ha travolto invece questo giovane di 32 anni, questo 62enne era alla guida di una Panda grigia, poi subito dietro c'è stata un'altra auto che ha di fatto investito per la seconda volta appunto questo giovane, una Opel Corsa nera che era subito dietro alla Panda e che era guidata da un 60enne che abita nella zona di Tombaccia di Pesaro. Quest'uomo, questo ragazzo era stato visto già da alcune persone anche lì davanti a una concessionaria che hanno chiamato, hanno subito chiamato il centro la polizia, la polizia è partita immediatamente ma è arrivata quando ormai purtroppo la tragedia si era consumata. La questione invece di Confindustria sulle pagine dei giornali questa mattina con l'elezione di Mauro Papalini industriale fanese eletto presidente ma si annunciano barricate, resta dunque bollente la poltrona di Marche Nord perché il dorico Bocchini annuncia in assemblea una riunione per arrivare alla scissione quindi la divisione tra Pesaro e Ancona e c'è stato quello che viene definito poi un colpo di scena perché dopo che sembrava che tutto si fosse accomodato con il cambio di guardia il presidente di Ancona Pierluigi Bocchini ha chiesto la parola e per dire che cosa? Che non ci sta per cui si torna alle situazioni di stallo è andata avanti per sei mesi e ha detto che convocherà un'assemblea dorica per valutare la possibilità di sciogliere il vincolo creato con Confindustria Marche Nord e Mauro Papalini che cosa dice? Dice il nuovo presidente che una delle prime cose che farà sarà quella di parlare proprio con Pierluigi Bocchini per capire le ragioni che sono dietro a questo annuncio che ha lasciato tutti quanti perplessi anche perché inatteso il titolo invece del Corriere è Confindustria la spaccatura è servita Ancona pronti a sfilarci dalla fusione doccia gelata nel giorno dell'insediamento di Papalini alla guida di Marche Nord Bocchini presidente della territoriale Dorica dice l'assemblea per sciogliere appunto questo vincolo ma dalla parte di Papalini c'è Casoli del gruppo Elica che dice basta con i giochi di quartiere aggregarci questa è l'unica strada e oggi da soli contiamo molto poco dice l'obiettivo deve essere il bene dell'industria e dell'economia regionale costi gonfiati per le ambulanze invece torniamo a Pesaro il processo al giudice bastano tutti assolti dopo sette anni al giudice bastano pochi minuti di Camera di Consiglio per emettere la sentenza le cooperative che erano finite sotto accuse che gestivano i trasporti nel 2014 2015 erano riuniti sotto un'associazione temporale di impresa c'era la One Emergenza di Pesaro a cui si erano associate le croci verde azzurra e la Solaris di Carpi la pagina di Fano del Carlino fondazione entra Darpetti rondini non viene letto la new entry faceva parte della terna indicata dal vescovo Trasarti il commercialista rimane fuori dal consiglio e dice rispondendo alle domande di Gennari del Carlino dice beh per me anche se resto fuori non c'è nessun problema come ha saputo dalla sua elezione dice ho ricevuto la telefonata dal presidente Giorgio Gragnola una telefonata nella quale mi veniva comunicata l'elezione e poi c'è tutta l'intervista che potrete leggere sulla pagina di Fano del Carreno di oggi sulla pagina invece di Fano del Corriere il comune si mette le mani in tasca doni sotto l'albero alle associazioni sono i contributi che vengono dati solitamente in questo periodo i maggiori beneficiari sono l'RTI che gestisce la Rocca Malatestiana che ha ricevuto 45 mila euro poi il Centro Studi Vitruviani 25 e l'Orchestra Sinfonica Rossini 11.800 euro capitolo a parte quello della Fondazione Teatro in un anno riceve 375 mila euro per i buoni spese invece oggi l'ultima erogazione soddisfatto l'assessore Dimitri Tinti che dice abbiamo rispettato i tempi la beffa dei parcheggi gratis ne parlavamo ieri qui in Rassegna commentando una pagina dei giornali siamo sempre a Fano nessun aiuto al commercio questi parcheggi gratis in realtà si sono rivelati un boomerang anche per i negozianti che avevano chiesto sì di aiutarli in qualche modo anche togliendo diciamo questo balzello delle strisce blu a pagamento però purtroppo quando nel momento in cui questi parcheggi sono stati liberalizzati questi parcheggi sono diventati praticamente gratis chi ne ha beneficiato sono i residenti della zona del centro oppure quelli che ci lavorano che parcheggiano lì la mattina la riprendono alla sera e quindi per tutti gli altri a cui invece era destinato questa gratuità insomma tutti gli altri devono fare i conti con la ricerca appunto di un parcheggio che non è facilissimo soprattutto in questi giorni è praticamente impossibile trovare un parcheggio in centro a Fano e di questo si parla in sostanza nella pagina del Corriere Adriatico di oggi andiamo sull'altra pagina invece del Corriere per parlare del centro storico ma questa volta di Pesaro la rivincita delle strade cadette finalmente vivaci da via Curiel a via Passeri passando per via Tebaldi la riscoperta dello shopping anche a gennaio sono in programma iniziative come la filodiffusione e gli arredi e poi c'è invece sul Carlino la protesta di chi si mette in coda alla posta centrale per appunto effettuare delle operazioni allo sportello ecco le poste dove la fila non tramonta mai mattina e sera sempre una ventina di persone ad attendere il proprio turno e la rabbia sale almeno fateci prendere il numerino perché ci sono problemi anche online quello esterno il postamat esterno c'era la coda anche per fare i prelievi situato all'interno della filiale perché evidentemente è andato in tilt sotto pressione in sostanza Valmetauro una petizione con 80 firme per chiedere luci in strada siamo a Fossombrone la via che collega Isola di Fano a Fratterosa è al momento completamente al buio dunque è partita una raccolta di firme per chiedere di illuminare questo tratto di strada nella popolosa frazione appunto di Isola di Fano a gonfie vele invece l'istanza digitale per la ciclabile individuata lungo il tracciato della ferrovia dismessa da anni mentre sulla valle del Cesano vi abbiamo parlato anche noi ieri nel telegiornale di questa inaugurazione storica di una strada di una variante che sicuramente farà respirare un po' tutta la valle del Cesano è una giornata storica ha detto il sindaco di San Lorenzo in campo dell'Onti un po' tutti insomma una giornata storica attesa da decenni che ha visto l'inaugurazione di questo secondo tratto della variante della strada 424 e la conseguente apertura al traffico che completa un'opera fondamentale per liberare il centro di San Lorenzo in campo il centro del paese praticamente dal traffico pesante Natale in palestra invece il sogno del coach Mazzanti l'allenatore della Nazionale di Volley e della Bartocini ha fatto gli auguri ai marottesi e poi da Urbino Domus del mito e Terme un milione per ripartire il ministero ha attribuito le risorse al comune di Sant'Angelo in invado e dunque arrivano soldi che sotto l'albero insomma non fanno mai male il cantore dei ricordi il filo rosso della memoria a Urbino presentata l'iniziativa che coinvolge pazienti Alzheimer e bambini sempre da Urbino ma il Carlino il 20% degli urbinati ha fatto il tampone la percentuale regionale è molto più bassa fino ad oggi 18 positivi stranamente 17 emersi dal punto di prelievo dell'ex bocciodromo dunque ricordiamo che ancora oggi è possibile effettuare oggi è l'ultimo giorno per fare appunto questi tamponi confiscata casa di un poliziotto ma fu un errore sulla pagina di Senigallia un agente aveva comprato l'immobile nel 2014 da un uomo poi condannato per reati patrimoniali trattava con la figlia di un soggetto che eludeva prevenzioni antimafia addio a Sargenti invece un malore improvviso stronca l'ex guardia giurata aveva 48 anni nel 2015 si era candidato al consiglio comunale di Senigallia con Perini gli amici dice era una persona molto riservata a Cantiano invece si potrà scavare per la villa romana la regione finanzia le ricerche per riportare alla luce un manufatto di epoca tardo repubblicana presto ci saranno verranno effettuati anche rilievi geomagnetici mentre sulla pagina di Valefoglia 30.000 clic in soli 10 giorni boom del Natale che non ti aspetti contatti online dall'Italia e da mezza Europa grandi interesse per la sezione degli eventi pian del bruscolo giorni e orari dei mercati edizione speciale da oggi fino all'11 di gennaio tutte le bancarelle saranno aperte poi a Cagli Cagli lancia il percorso tra le rocche martignane andiamo adesso invece sulle pagine sportive la Vis può fare prima con Tris ma fermo non sarà facile Di Donato non si accontenta vogliamo un'altra vittoria ma non dobbiamo ripetere certi errori mentre sul Fano Fano ha perdifiato e vietato fallire contro il Matelica sesta partita in 17 giorni e altro spettacolo per i Granata destro l'allenatore dice è troppo importante tornare a fare risultato difesa a 4 con Paolini a sinistra sulla 3 quarta e torna invece Ferrara mentre l'ultima pagina di sport è sempre dal Corriere Adriatico per il Volley la Vigilar la squadra di pallavolo che milita in A3 di Fano è finita purtroppo nel tunnel del Covid positivi 7 giocatori e 5 del gruppo per i fanesi il 2020 dunque è già finito ora la parola passerà ai tamponi e con questo chiudiamo qui la nostra rassegna stampa grazie per essere stati con noi vi ricordo oggi pomeriggio alle 18.30 l'ultima puntata in diretta con Babbo Natale quindi per tutti i bambini e poi questa sera il telegiornale delle 20.30 occhio alla notizia arrivederci grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.